Ragazzi buongiorno a tutti bentornati su Crypto Salad qui Federico è il primo marzo 2023 bitcoin 62.100 dollari in questo momento guardiamo insieme la situazione sul time frame bimestrale perché abbiamo visto poche ore fa la chiusura del mese di febbraio che corrisponde ovviamente sia alla chiusura mensile ma anche ad una chiusura bimestrale quindi interessante approfondire i dettagli della situazione Parliamo di bitcoin time frame giornaliero perché abbiamo nuovi livelli di supporto e resistenza per il mese di marzo appena cominciato e poi ragazzi vi porto una coin su Solana secondo me interessante in particolare per una chart secondo me che potrebbe riservare qualche rialzo Quindi se vi sembra interessante lasciate un mi piace iscrivetevi al canale cliccate la campanella per le notifiche lasciate i vostri messaggi trovate in descrizione dei referral link da utilizzare per sostenere il canale Ragazzi intanto scusate ho la voce un po' bassa per un po' di mal di gola però volevo comunque portarvi un aggiornamento in questo inizio di mese di marzo molto importante Come abbiamo visto l'ultimo episodio insieme solitamente la chiusura bimestrale più alta della storia di bitcoin rappresenta un importante livello di resistenza nel ciclo successivo Quindi lo osserviamo sia in questa circostanza che ci fermiamo proprio in prossimità della chiusura mensile più alta anche in questa circostanza e per adesso anche qui bitcoin si ferma momentaneamente in prossimità della chiusura mensile più alta della storia di bitcoin arrivata ad ottobre 2021 più o meno in zona 61.300 barra 400 dollari Se guardiamo precisamente e visto che abbiamo sempre osservato insieme il livello dello 0,78 notiamo che nei precedenti cicli vi era corrispondenza confluenza tra lo 0,78 e la chiusura bimestrale più alta sia nel ciclo del 2015-2016 ma anche nel ciclo successivo Vedete chiaramente come c'è confluenza tra i due livelli mentre nel ciclo attuale solitamente abbiamo una differenza sostanziale tra i due punti perché lo 0,78 si trova più o meno a 50.100 dollari Mentre abbiamo la chiusura mensile più alta della storia come dicevamo a 61.300 dollari Quello che è interessante da notare è che nonostante bitcoin abbia raggiunto un massimo per il mese di febbraio in zona 64.000 abbia comunque chiuso il mese leggermente ma proprio leggermente al di sotto della chiusura mensile più alta della storia perché abbiamo chiuso a 61.100 con una chiusura mensile più alta di ottobre 2021 a 61.300 E solitamente la chiusura mensile più alta rappresenta un segnale secondo me estremamente rialzista quindi quando bitcoin riesce ad aggiornare non solo il suo massimo storico ma soprattutto a fare una chiusura mensile più alta della chiusura più alta precedente Tendenzialmente secondo me è un segnale di non ritorno per il bull market quindi un segnale estremamente rialzista Per adesso la chiusura del mese di febbraio del bimestre è si è chiusa leggermente al di sotto della chiusura mensile più alta Quindi teniamo in considerazione questo importante dettaglio a mio avviso Guardiamo poi il time frame invece giornaliero perché abbiamo nuovi livelli per il mese di marzo Quindi marzo per come si presenta al primo del mese è un mese rialzista nel senso che abbiamo la zona di supporto Che è rimasta in zona dai 58.000 ai 53.000 dollari all'incirca quindi abbiamo una zona che potenzialmente potrebbe rappresentare supporto E fin tanto che bitcoin resta al di sopra di questa zona il mese di marzo può essere considerata una continuazione del uptrend che si è visto nei mesi precedenti Quindi vedete che abbiamo dei CPR che sono continuamente tra loro ascendenti 1, 2, 3, 4, 5 CPR ascendenti sono sinonimo di un uptrend con anche le medie mobili come vedete che sono posizionate in maniera rialzista Sono sotto il prezzo con la media mobili dei 50 giorni ben al di sopra di quella dei 200 giorni Quindi il trend per adesso nonostante una chiusura leggermente al di sotto della resistenza resta un trend rialzista Guardiamo poi in ultimo questa coin su Solana Secondo me interessante soprattutto per la chart perché si tratta di una meme coin che si chiama Ghost La potete trovare con Ghost scritto con lo 0 Ed è interessante dal punto di vista fondamentale perché creano un nuovo standard di token che si chiama SPL22 Ed è un'evoluzione di uno standard già presente su Solana che si chiama invece SPL20 Però ne migliora sostanzialmente la funzionalità e le liquidità Qua c'è un articolo che parla dell'innovazione dei token SLP20 già come innovazione rispetto ai classici token che girano sulla blockchain di Solana Quindi lascio un po' a voi l'approfondimento eventualmente dei fondamentali di questo nuovo tipologia di token su Solana Perché voglio parlarvi della chart di questa coin Perché secondo me è interessante abbiamo 4 milioni solo di market cap di questa coin Abbiamo una fase di accumulo con poi un breakout e poi un ritorno ad un riaccumulo Praticamente in corrispondenza del precedente livello di resistenza Quindi vedete che abbiamo una fase di riaccumulo in una zona creando un higher low rispetto al precedente Quindi secondo me questa potrebbe essere una fase di riaccumulo esattamente come questa Prima di una successiva nuova leg up esattamente come la precedente Quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa coin se già la conoscevate Fatemi sapere cosa ne pensate dello scenario di Bitcoin Se certamente secondo voi entro la fine di marzo faremo un nuovo massimo in termini di chiusure O altrimenti faremo un'altra chiusura al di sotto della resistenza dei 61.300 dollari Grazie per la vostra attenzione ci vediamo al prossimo episodio Ciao